Ben ritrovati dal vostro gioco Sì, ci ritroviamo con Ningguang all'interno di Genshin Impact Va bene, fammi finire Proprio perché oggi parleremo di lei Ovvero secondo episodio del Tu come lo giochi Che devo ammettere è andato abbastanza bene Come primo episodio e certo ovviamente Un po' particolare come struttura di video In quanto non sarò io a darvi, come ripeto, delle build O in generale non sarò io a dirvi come gestire il vostro personaggio Ma vi farò vedere come lo gioco io Secondo ovviamente il mio game style, il mio gameplay E poi sarete voi, se volete ovviamente A descrivermi come giocate la vostra Ningguang Proprio per creare una sorta di filo intrecciato Se vogliamo dire così Delle varie forme che può assumere un personaggio All'interno di Genshin Impact È molto importante ovviamente sottolineare il fatto Che questa è una mia realizzazione personale Quindi ripeto, non sarò io a dirvi come giocare il personaggio Ma vi farò vedere semplicemente come lo faccio girare io Come lo faccio giocare io E poi sarete voi a darmi magari qualche suggerimento O qualche altra combinazione per testare Ningguang Per quanto riguarda il personaggio Io lo utilizzo molto come supporto Ovvero nel senso Lo utilizzo come personaggio secondario Tra virgolette Che subentra all'interno del campo da battaglia Fa quello che deve fare E poi successivamente esce Come attributi non sono ancora al top Perché devo portarlo all'80 Devo anche maxare e portare su i suoi artefatti Che non sono malvagissimi Però preferirei magari trovare qualcosa di un po' più sprint Qualcosa di un po' più acceso Detto questo Le statistiche al momento sono queste Che andranno sicuramente ad aumentare Perché aumenteranno spero di pari passo insieme agli artefatti Quindi crit rate e crit damage un po' bassini 36% crit rate 113 Per quanto riguarda crit damage Sicuramente avrei voluto qualcosina in più Ma andiamoci con ordine Ottima energy recharge del 141% Che mi consente comunque di effettuare parte del mio piano di spamming Della sua ultimate nel momento in cui entra in campo E poi cosa abbastanza buona Per meglio dire è il geodamage bonus Che è al 67% Sicuramente potrei portarlo un po' più su Trovando qualche artefatto migliore Senza ombra di dubbio Però già avere una base del 67% di geodamage bonus In un personaggio che fondamentalmente effettua danni geo Mi va assolutamente bene Mi va assolutamente bene Come arma per il momento sto utilizzando E credo che in molti saremo d'accordo su questo Diciamo su quest'arma Fondamentalmente il solar pearl Solar pearl che appunto si ottiene tramite il battle pass Quindi tramite il livello 30 del battle pass presente all'interno del gioco ogni mese Che ci consente comunque di avere un ottimo catalyst per personaggi che per l'appunto spammano fondamentalmente attacchi a destra e sinistra Infatti se andiamo a leggere la descrizione abbiamo il normal attack hits Quindi le hit dell'attacco normale Incrementano l'elemental skill e l'elemental burst damage del 20% per 6 secondi In altro modo l'elemental skill e l'elemental burst incrementano il danno dell'attacco normale del 20% per altri 6 secondi Quindi per un personaggio che spamma comunque l'elemental skill, attacchi normali, l'elemental skill e poi burst Andiamo a creare una sorta di concatenamento degli effetti che potenziano sia gli attacchi normali sia l'attacco burst Comunque 20% di base al refine numero 1 è veramente tanta tanta roba Per quanto riguarda gli artefatti come detto in precedenza io utilizzo Ningguang come il personaggio entra ed esci Chiamiamolo così dove appunto lo faccio entrare Gli faccio fare quello che deve fare quindi elemental skill Piazza il muro accumula le orb e poi successivamente effettua la burst Dopodiché esce e si ricomincia il giro Infatti ho equipaggiato due set di Archaic Petra che mi consentono di avere il 15% di Geo Damage Bonus Che per lei secondo me è assolutamente ottimo E due pezzi Noblesse Oblige che mi danno l'elemental burst aumentata del 20% Vi ricordo che io spammo la sua burst in maniera veramente quasi compulsiva Per fare veramente tanti tanti danni Che spero di farvi vedere anche all'interno di questo video Ma la cosa più importante è che comunque esistono diversi modi e diversi set per giocare Ningguang C'è anche chi la utilizza come main DPS Anche se a me non piace tantissimo come main DPS perché Ningguang quando attacca è abbastanza vulnerabile Quindi se non le si dà una buona protezione mettiamola così Potrebbe effettivamente finire sotto gli attacchi spesso e volentieri degli altri avversari Però detto in tutta sincerità Ningguang come DPS principale può essere tranquillamente utilizzata Proprio perché i danni che effettua e gli attacchi ripetuti soprattutto che effettua Sono veramente veramente tanta roba La mia Ningguang presenta due costellazioni Che comunque abbiamo la prima che assolutamente vi consiglio di ottenere in un modo o nell'altro Dato che praticamente ogni attacco normale che lei effettua contro un avversario Infligge il danno a OE Quindi praticamente colpisce fondamentalmente anche i nemici vicini Quindi vi consente di essere ancora più aggressivi E vi consente di essere comunque un DPS molto molto più efficace E secondo a costellazione Che praticamente nel momento in cui creiamo un Jade Screen Quindi la nostra Elemental Skill Quindi creiamo lo schermo per l'appunto composto di Jada Il suo cooldown verrà resettato E questo effetto può essere effettuato una volta ogni 6 secondi Quindi vuol dire che noi possiamo praticamente spammare due volte l'attacco elementale Quindi due volte il Jade Screen nel giro sempre di 6 secondi Il che è veramente comodo Perché l'Elemental Skill effettua comunque dei bei danni Di tipo Geo Ma assolutamente lo schermo ci consente non solo di proteggerci dai proiettili Come vedremo tra poco Ma addirittura attraversandolo Quando raggiungeremo il livello 70 Avremo la possibilità di guadagnare ulteriore Geo Damage Bonus Quindi veramente veramente buono Per quanto riguarda i talenti sto aumentando Sto cercando di livellare Come potete vedere mi mancano ora un pochino i soldi Ma piano piano sto iniziando a livellare anche gli attacchi Perché sono molto molto importanti Il primo attacco è lo Sparkling Scatter Che praticamente effettua tramite l'attacco normale Lo sparo di gemme composte dall'elemento Geo Che infliggono Geo Damage Quindi molto importante riconoscere che un personaggio effettua danni di tipo Geo In modo tale da poter costruire il personaggio nella maniera corretta Mentre invece il Charge at Attack consuma un ammontare di stamina Per sparare delle gigantesche gemme che infliggono ancora Geo Damage Inoltre quando abbiamo sulla schiena di Ningguang l'accumulo delle Star Jades Una volta che rilasciamo l'attacco caricato Queste sfere che noi Cioè queste gemme che noi accumuliamo Infliggeranno dei danni bonus al nostro avversario E vi farò vedere anche come E poi vabbè l'attacco praticamente dall'alto Ningguang praticamente scende verso il terreno da mezz'aria E una volta che effettua l'impatto Infligge danni aoe Geo sempre Quando va ad impattarsi praticamente sul terreno Percentuali che comunque sono abbastanza buone Devo ammettere perché attacco normale 42% per ogni singola gemma Devo dire che è buono Cioè quasi allo stesso livello di ogni attacco di Zhongli Quasi Solo che lei comunque effettuando Geo Damage Viene aiutata tantissimo Sia dagli artefatti e anche da tutta la struttura Che comunque le ho ovviamente composta dietro Il charge d'attacco addirittura 261% Quindi veramente tantissimo E questo comunque le consente di diventare veramente Un main DPS Proprio perché ogni tre attacchi normali Accumuliamo tre giade Che è il numero massimo Per il momento senza ovviamente costellazioni full E poi successivamente Rilasciamo queste gemme che accumuliamo Alle nostre spalle Per effettuare altri danni bonus Quindi il 261% dei danni bonus Che possiamo fare tramite Geo Damage E veramente veramente tanto Ogni danno che effettua una sua Star Jade Come potete vedere è addirittura del 74% Quindi l'attacco caricato di Perseggia Infligge 261% di base Più ogni singola Jade che andiamo ad accumulare Che dà praticamente un altro 74% Quindi veramente tanta tanta roba L'attacco caricato costa 50 stamina Ma scopriremo anche che lei Non ha bisogno di consumare stamina Per l'attacco caricato massimo L'attacco dall'alto invece 90% Che non è male Mentre invece l'attacco dal basso E dall'alto Sempre ovviamente Attacco in picchiata 180-224% Che penso sia abbastanza onesto Per quanto riguarda invece il Jade Screen Per chi non lo sapesse È una sorta di schermo protettivo Che Ningguang crea Che praticamente nel momento in cui viene creato Infligge dei danni a Oe Geo Ai nemici circostanti Inoltre il Jade Screen Come potete leggere Blocca i proiettili nemici Quindi tutti i colpi sparati dai nostri nemici E la durata e la potenza di questo scudo Si basa interamente sugli HP massimi Di Ningguang Quindi anche Ningguang con HP aumentati Può essere utile anche in maniera difensiva Inoltre lo schermo di Jada Quindi il Jade Screen Viene considerato come una costruzione di tipo Geo E quindi può essere utilizzata Anche per bloccare certi attacchi Però non può essere scalato E inoltre può esistere un solo Jade Screen Alla volta È importante sottolineare il fatto Che viene considerata come costruzione Geo Perché un personaggio come Zhongli Come vi ho fatto vedere nel video scorso Effettua risonanze Che permettono di infliggere danni a Oe Geo Con le altre costruzioni Geo Quindi per questo ovviamente è importante Sottolineare il fattore costruzione Geo Per quanto riguarda invece C'è le sue percentuali Abbiamo nel momento in cui Anzi abbiamo praticamente l'interazione Con i nostri HP del 63% Quindi è un piccolo bonus Che prendiamo di danno Che teoricamente lo scudo può assorbire Il danno della skill Quando ovviamente la buttiamo sul terreno Quindi nel momento in cui creiamo Il nostro Jade Screen Abbiamo 305% di skill damage Che è veramente buono E un cooldown di 12 secondi Ma che ovviamente Noi tramite la nostra costellazione Resettiamo una volta E poi successivamente ogni 6 secondi Abbiamo praticamente il cooldown Gratuito Quindi potremmo in teoria Tra virgolette Ridurre il cooldown Sempre a 6 secondi Mentre invece la Ultimate Ovvero Star Shutter È praticamente Un attacco Che praticamente Infligge danni Tramite una moltitudine Di sferette Jade Quindi dei piccoli Jade Di elemento Geo Ovviamente Che andranno a colpire Il nostro nemico Saranno dei missili a ricerca Per così dire Proprio perché ogni Perché ogni pezzetto di Giada Andrà a colpire Il nemico Nella prossimità Ovviamente nella vicinanza Nella sua prossimità E fanno dei danni Geo massivi Quindi anche in questo caso Danni Geo Quindi lei è praticamente Una sorta di elementalista Quindi tutti gli attacchi Avranno elemento Geo Inoltre se Lo Star Shutter Viene effettuato Quindi noi utilizziamo La nostra burst Quando Un Jade Screen È vicino Quindi Quando siamo vicini A un Jade Screen Avremo la possibilità Di sparare Gemme addizionali Allo stesso tempo Quindi Abbiamo la possibilità Di incrementare Ancora di più Le nostre hit E di incrementare Ancora di più Il nostro danno Infatti Ogni danno Che abbiamo Per gemma È di 122 secondi Un cooldown Di 12 E energy cost 40 Energy cost 40 Devo dire Che è veramente poco Rispetto comunque A tanti altri Attacchi burst Che comunque già Parlano di 60 Barro 80 Di energia Mentre invece Lei 40 Addirittura È veramente Molto comodo Perché ti consente Veramente di spammare Quasi subito La sua burst Quindi tanta Tanta roba Backup plan Che è il primo talento Che ovviamente Sblocchiamo Con Con la nostra Ningguang Che Come vi dicevo Prima Quando possiede Il massimo numero Di star jade Il suo attacco caricato Non consuma Stamina E quindi ci consente Di poterlo effettuare Gratuitamente E quindi ci consente Di risparmiare La stamina O per scappare O per successivamente Utilizzare Un secondo attacco caricato Ed infliggere Quindi più danni Quindi tanta Tanta roba E poi Altro talento Che si sblocca A livello 70 È Il personaggio Che passa Attraverso lo schermo Di giata Guadagna Un altro 12% Di geodamage Bonus Per 10 secondi Quindi è molto utile Soprattutto Per quanto si utilizza La burst O in generale Con Ningguang Creare Praticamente Lo schermo di giata Attraversarlo E poi Continuare A fare danni Giusto per accumulare Un altro 12% Di geodamage Bonus E poi vabbè Il fatto che lei Possa trovare Tutti i giacimenti Di Dior Quindi delle pietre Che andiamo Praticamente a picconare Nella minimappa Che può essere Comunque comodo Qualora dovessimo Appunto andare A trovare Le rocce Per Per creare Appunto le gemme E potenziare Le nostre armi Detto questo Che era una presentazione Iniziale Di Ningguang Io direi Di andarlo a vedere Un pochettino In azione Piccolo bonus Come potete vedere Adesso Ningguang Possiede Le tre star jade Che tecnicamente Può accumulare All'interno Della sua Rotazione Quindi ogni qualvolta Lei accumulerà Questo massimale Di sfere Quindi questo massimale Di jade Non consumerà L'attacco caricato Tramite stamina Infatti se vi faccio vedere Vedete Effetto l'attacco caricato E non consumo stamina Mentre invece Se dovessi farlo In questo momento Vedete La mia barra della stamina Praticamente Si è andata Ad abbassare Mentre invece Facendo un primo attacco Un secondo attacco Ovviamente colpendo I nemici Perché se non li colpisci Non puoi Accumulare le jades Però Nel momento In cui colpisci un nemico Tramite l'attacco normale Si ha la possibilità Di accumulare Fino a tre Di queste sfere Piccola chicca Che magari non tutti sanno A costellazione full Quindi alla massima Costellazione Quando Ningguang Effettua l'attacco burst Accumulerà Non tre Ma bensì Sette Sfere Jade Quindi immaginatevi L'attacco caricato Quanto danno Possa fare In totale Veramente Tanta Tanta roba Capisco soltanto adesso Perché molti Effettivamente Mi avevano consigliato Ningguang Anche come main DPS Proprio perché La sua rapidità E la sua capacità Di infliggere danni Continuamente È molto elevata A me non piace Come main DPS Perché come avete visto Comunque dalla clip È abbastanza lenta Tra virgolette Sempre Per quanto riguarda Gli attacchi caricati È normale Che utilizzando Il giusto tempismo E la giusta Accortezza Si riuscirebbe Tranquillamente A giocarla come main DPS Solo che a me Mi viene più istintivo Utilizzare altri personaggi Con armi bianche Fondamentalmente Per il corpo a corpo Come main DPS Mentre invece Questo tipo di personaggio Mi piace tantissimo Utilizzarlo In questa maniera Quindi appena entra in campo Fa il devasto E poi esce Per rientrare Successivamente E creare nuovamente Il devasto Questo Vi ho fatto vedere Un attimo Come Come giocarla Praticamente in campo Adesso invece Vi farò vedere Delle clip Più in particolari Per farvi vedere Come gioco Io Ningguang Con la rotazione Che le creo Attorno Come gioco Come gioco Piazza Piazza Grazie per la visione Grazie a tutti 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 Grazie a tutti